Ci troviamo questa mattina nel parco giochi a fianco della scuola elementare di Padiglione per una problematica che da tempo, da ormai qualche anno, viene riscontrata dai cittadini di Padiglione. Ovvero che i ragazzi e i bambini, spesso di notte o di sera, lasciano in giro cartacce, bivacchi, lattine e altri numerosi rifiuti, oltre ad aver dato fuoco anche a delle panchine, a dei tavoli, quindi i problemi sono tanti. Qui presenti oggi l'Associazione del Verde, un'associazione che da tempo, da anni, ormai sotto la guida del comune di Tavuglia, sta cercando di pulire le zone del territorio. Presente qui anche il vice sindaco di Tavuglia, Laura Macchini, che ha risposto alle nostre domande in merito a come potrebbe essere risolta questa problematica. Abbiamo organizzato in tempi record questo evento che abbiamo chiamato Un Comune più Pulito. È un titolo che nasce da qualche anno fa, prima della pandemia. Un gruppo di ragazzi del nostro comune hanno deciso di andare frazione per frazione tutti i sabati a pulire scarpate, fossi, parchi. L'abbiamo fatta, come dico adesso, in maniera molto repentina, dopo gli ultimi fatti che sono accaduti qualche giorno fa. In realtà sono fatti che vengono perpetrati e vengono continuamente visti in questo parco, soprattutto perché, come vedete, è molto carino ma si presta molto bene. È un parco che di sera è abbastanza buio, è riservato, le scuole sono chiuse. Diciamo che diventa terra, terreno fertile per queste baby gang e questi ragazzi che, insomma, si divertono a bruciare le panchine e il tavolino. E in più vediamo quanta sporcizia, abbiamo raccolto non so quanti sacchetti di sporcizia, soprattutto bottiglie di birra, lattine, tutto buttato giù nel fosso. Quindi vogliamo dare oggi, chiaro non risolviamo nulla, però volevamo dare un esempio e volevamo dire ai cittadini che noi siamo qua, che non abbandoniamo nessuno. Ho saputo per certo chi sta dando fuoco a queste panchine e sono bambini, ragazzi, 12-13 anni. Quindi qui io dico anche, lo so, qualcuno non starà bene ma dove sono i genitori. A breve installeremo delle telecamere, un intervento che non è da poco perché, avendo diverse vie di entrata a questo parco, dovremo mettere diverse telecamere a un costo di 30.000 euro. Se questa fosse la soluzione del problema saremmo tutti molto contenti. Io ho paura che, sì, sicuramente non verranno più qua ma andranno in altri posti dove trovano comunque zone meno utilizzate. Di tutte le frazioni del comune di Tavuglia, Padiglione è quella che negli ultimi 20 anni ha avuto veramente un'esplosione a livello di edifici, a livello di costruzioni. Tant'è che si parla di Padiglione, il centro vecchio, le vecchie famiglie, è tutta una parte nuova dove ci sono tantissime abitazioni e quindi altre tante famiglie. È chiaro che questa integrazione negli anni, non posso dire che non ci sia stata, ma è in maniera sempre molto lenta e mai pronta a quelle che sono le esigenze. È stato costruito per 20 anni senza dare nessun servizio, senza pensare di costruire un bar piuttosto che un punto di aggregazione. Noi con la nostra amministrazione, ormai l'amministrazione Panorucci ha sette anni di vita, abbiamo cercato veramente di rincorrere e di dare delle soluzioni a una problematica che ci siamo trovati.